Buongiorno, un saluto a tutti gli amici di Gamesurf, siamo di nuovo live in questo giorno di ponte, speriamo che non siate tutti in montagna o da qualche parte ad abbuffarvi, ma che siate davanti al vostro pc a seguire le nostre dirette sul canale ufficiale di Gamesurf. E visto che questo weekend è stato un po' l'insegna di Final Fantasy 7, di cui è uscita proprio la versione PlayStation 4, appunto credo già sabato, non potevamo che dedicare un live a questo attesissimo, a questo, come dire, ricordato con grande nostalgia, titolo PlayStation. Quindi eccoci qua con Final Fantasy 7, non potevo essere da solo, e infatti qui con me c'è Tommaso. Ciao, ciao a tutti. Eccoci qua. Quindi, mentre tutti aspettiamo e litighiamo sul remake di Final Fantasy 7, perché ovviamente le critiche sono arrivate subito e molto aspre, io vi faccio vedere, appunto, e ho già fatto partire il menu sbagliato, eccoci qua. Questo è il menu iniziale di Final Fantasy 7, appunto in edizione PlayStation 4, quindi non il remake, giusto Tom? No, no, ma il remake lo continuiamo a vederlo un pochettino con il contagocce, meno male perché ogni goccia che cade sta facendo... sai quando fai cadere le goccioline però su un tamburo bello grosso? Ogni goccia fa un rimbombo che lo sentono da tutto il mondo. Tra l'altro, appunto, nel menu vedevo delle... ci sono diversi... diversi aiutini, questa cosa qua è interessante. Ok, io faccio partire il filmato iniziale. Non so, cosa possiamo dire di Final Fantasy 7, Tom? Un giochino così che nessuno ha mai giocato, insomma un po' mai visto prima. No, possiamo dire, per esempio, che originariamente il progetto nacque su Super NES, SNES, il Nintendo 16-bit, successivamente Sony invece si aggiudicò l'esclusiva temporanea tra l'altro, perché poi comunque il gioco è uscito anche su PC, temporaneamente l'esclusiva del prodotto, mentre Nintendo prendeva una strada un po' diversa e da questo punto di vista comunque aveva tantissime caratteristiche da cross-gen, per intenderci. Per esempio i scenari bidimensionali con i personaggi invece in 3D, però con una grafica molto prototipale anche per PlayStation 1. Però già, insomma, vediamo questi filmati qua, all'epoca erano il non plus ultra, insomma. Salvo poi superarsi con le successive produzioni di Square Enix, che per tutta la generazione PlayStation 1 e PlayStation 2 sono stati un pochettino lo stato dell'arte per quanto riguarda i filmati in computer grafica. Sì, sicuramente è stato, se vogliamo, noi lo ricordiamo tantissimo, con moltissimo affetto, ma per certi versi è stato un po' un inizio e un po' un esperimento su molti fronti, appunto. Quello tecnologico è stato forse il primissimo di Square, di Square Soft per PlayStation, o comunque tra i primi progetti di un certo spessore. Quindi chiaramente c'era ancora da prendere confidenza con un hardware completamente nuovo. Certo.